buongiorno 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 che zona è netta ragazzi buongiorno 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 troppo troppo io non so non so mentre qua ieri di pomeriggio buongiorno 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 stai buongiorno 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 l'ho muon s si però relax perché ma io sempre una molla come figaro cioè riliefermo calmo un momento fatti un giro bianco secondo te faccio i gialli? no non lo so con lui non è che mi stupirei di che tanto no perché mi sembrano delle cattive ficharo l'hai già fatta no? no quello è un 5 perché si è sbagliato la porta allora cazzarola 5 per quello no eh devo saltar su via di là anche e ci sono saltati sui soldi cazzarola ho sbagliato la porta io dai dai si spengono anche in beta incredibile è vero si spengono anche in beta cazzo è strano perché di solito sono i montesi che ti fanno quel verso lì non lo so stamattina dove cazzo è andato non ho idea non ho idea non ho idea se sta ok se sta no ma te lo sa no ma te lo sa no ma te lo sa non hai che cosa no ma te lo sa no ma te lo sa no ma te lo sa chi è andata è andata una bella zona eh caro mio te le indecan' tua Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Dai dai che chiedi faccio i sanzi. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ma va? Poi loro che non ci sono qua, appena lei che ritiene tutto il bucchi basta. Non riesci più eh. Tutto è tosta. Portiamo ora. Puoi fare il sasso qua, se no passa di qui, ma se riesci fai il sasso. Malissimo Paolo, vai via, fa l'andare, fa l'andare. Mi metti a copuzza. Per il passaggio qua ci hai stupito con effetti spettacolari. Cazzarola. Bravo. Perché? Perché non vedevo, avevo solo in faccia e faccio tutto da solo. Infatti, ma è vero questa qua eh. Bravo. Ciao.